Io cercherò molto velocemente, passando le slide, proprio per cercare di essere sintetico come ci è stato richiesto dal moderatore, di fare un punto veloce sulla situazione del mercato, su quelle che sono le difficoltà attuali e poi provare a dare qualche indicazione per quelle che potrebbero essere superamenti. Le indicazioni sono state quasi tutte riassunte dal precedente intervento del professor Cascetta e sono molto contento che, io dico per la prima volta, sono vent'anni appunto che Bazzico ha anche gli ambienti governativi, per la prima volta ci siano avute risposte, si intravedono soluzioni con una lucidità e una chiarezza mirabile rispetto a un miriade di tentativi fatti in precedenza che però non avevano un filo logico che li legava tutti. Bene, ci spero di non sbagliare subito a far andare avanti la presentazione. Beh, velocemente, che cosa vuol dire il sud in questo momento? Vuol dire molto in termini di contenitori, perché queste sono cifre che ci fanno capire come il 45% dello sviluppo totale del traffico di contenitori sia concentrato nel sud. Cercherò, è ben chiaro per me ovviamente che c'è un traffico di transshipment, è un traffico import-export che i due pesi sono diversi, ma cercherò poi di spiegare e cercare di convincere come il traffico di transshipment sia estremamente importante. Tra l'altro oggi ho imparato, professore, una nuova parola che è quella di ZEA, è una parola estremamente importante perché l'accessibilità è un fattore estremamente importante, infatti il successo del recupero dei volumi di contenitori va proprio in quella direzione per quello che riguarda il transshipment. Allora, malgrado questa presenza infrastrutturale grossa e questo valore assistiamo, abbiamo avuto un anno di grandi perdite, abbiamo avuto una perdita vicino a doppio digit per quello che riguarda, sopra i doppi digit per quello che riguarda i porti di transshipment, ma una perdita consistente anche per l'import-export. Io ho cercato di riassumere questa con tre fattori principali, abbiamo avuto problemi legati alla strategia delle linee, mi permetto di polemizzare un attimino con l'amico Mariani, prima che dice che Gioia Tauro è nata da un recupero di un quinto centro siderurgico che non si è fatto. Probabilmente questo era il motivo scatenante, ma Gioia Tauro è nata perché nel momento, in quel momento, nella distribuzione delle merci, nella dinamica della distribuzione delle merci nel Mediterraneo e dal Fariste, serviva un porto di transshipment che fosse centrale, perché non c'era ancora uno sbaricentramento del traffico verso est e verso ovest del Mediterraneo e quindi una centralità nel Mediterraneo sulla sponda europea dava grandi successi. Di fatto il contratto di programma di Gioia Tauro è stato ampiamente superato gli accordi dai risultati e c'è stato un grande successo fino adesso, in cui le dinamiche internazionali sono cambiate, quindi strategia delle linee diversa, fattore logistico diversa, e poi c'è stata una mancata attrazione di alcune scelte di sistema che hanno penalizzato i porti di transshipment. È inutile parlare di quello che succede per quello che riguarda le linee, c'è una grossa opportunità, è aumentata la capacità di stiva verso il Mediterraneo, perché parte della debolezza del Mediterraneo rispetto ai porti del North Range era anche la mancanza di disponibilità di stiva, ricordo sempre che talvolta nei porti del North Tirreno non c'era capacità abbastanza sulle navi per caricare i contenitori per il Far East e perché le linee preferivano usare i fattori di scala nei porti del North Range e quindi non davano capacità di stiva al Mediterraneo. Questo problema è stato superato. Un altro problema che potrebbe rivelarsi una grossa opportunità è quella che attualmente, per la prima volta, le tariffe nel Mediterraneo sono praticamente uguali a quelle delle tariffe applicate nel North Range, mentre prima le tariffe del North Range per motivi delle dimensioni di scala erano assolutamente favorevoli rispetto a quelle del Mediterraneo. Quindi qual era il fattore logistico? L'ho accennato prima velocemente, crescita dei mercati dell'est Europa del Mediterraneo elementale, aumento degli scali diretti nei porti dell'Istemed e quindi sbaricentramento, come dicevo, dei traffici in quella direzione, caloni di onore in mare e ricerca dell'economia di scala, pressione di competitività sui porti degli hub di transshipment che hanno fatto preferire in questa fase e forse anche stabilmente le faranno preferire quei porti nord-africani che avevano dei vantaggi innegabili di competitività rispetto ai costi operativi. Quindi il trend del futuro, lo sappiamo tutti, è concentrazione di volumi, alleanze e quindi tendenza ad ottimizzazione dei network e maggior ricorso ai collegamenti diretti. Quali sono stati i difetti che hanno penalizzato e danneggiato i porti italiani del sud fino adesso? Io li ho riassunti con tre, come dicevo, con tre macro aree di mancanze. Un mancato adeguamento infrastrutturale che ha colpito prevalentemente Taranto e Napoli, un mancato sviluppo industriale delle aree elettroportuali che colpisce Gioia Tauro e Cagliari e una generale incertezza sulle governance che però sappiamo è in via di superamento. Questi sono stati, secondo noi, i tre principali problemi che hanno afflitto la nostra portualità meridionale. Ora, volevo fare notare una cosa. Per quello che riguarda il mancato sviluppo industriale delle aree elettroportuali tipo Gioia Tauro, nel contratto di programma di venti anni fa era ben presente una seconda fase che sarebbe dovuta seguire a quella di infrastrutturazione dell'area portuale con la necessità di creare intorno un'area logistica vasta che facesse funzionare Gioia Tauro sugli stessi modelli che poi hanno dato successo veramente anni dopo ai porti di Gebelali negli Emirati e al porto di Tangeri, che ricordo anch'esso gestito in grande parte da noi. All'interno del porto di Tangeri, della zona economica speciale di Tangeri, esistono centinaia di aziende che si sono installate lì per la possibilità che un porto offre e che quindi danno loro stesse con lo scambio quella linfa vitale che serve a un porto di transshipment che deve reggersi su un giusto equilibrio fra il traffico di solo transshipment e un traffico locale. Perché un mix che porti un porto di transshipment a avere un equilibrio diciamo 60-40, 70-30 è un mix assolutamente vincente. Allora credo che la domanda da farsi, viste anche queste altre condizioni positive al contorno che si stanno maturando, allargamento del canale di Suez, non dimentichiamoci, lo citiamo troppo poco, c'è un problema di congestione in questo momento nei porti nord europei, un grosso problema di congestione, anche in quelli che sono rappresentati talvolta come modelli. C'è una grossa e maggiore attenzione da parte che percepiamo nei mercati sud europei di guardare a sud, tant'è vero che dopo il we bring the ship to your factory che è stato il nostro motto per vent'anni come conship, adesso abbiamo un altro motto e avrete visto che vediamo l'Italia alla rovescia e vediamo il sud alla rovescia, vuol dire change your view, cioè incominciamo un po' a guardare anche il nord e anche dal nord incominciano a guardare con una proiezione diversa i porti del sud. E poi c'è sicuramente un grosso miglioramento che c'è stato nell'ultimo periodo l'esnelimento delle procedure doganali italiane, con l'avvento in alcune parti del single window, con l'avvento del pre-clearing e con la maggiore informatizzazione che sta prendendo campo in quasi tutti i porti italiani. Un'altra moda diciamo che nel nostro settore è sempre stata, il nostro settore è un settore strano, dove alcune teorie si affermano perché sono allettanti da un punto di vista semplicemente formale e poi di fatto non hanno un senso. C'è stata la famosa teoria delle ascelle, è mai possibile servire l'Italia solo dai porti del nord range italiano? Diciamo la risposta è assolutamente no, perché se si guarda anche la distribuzione, il 32% del nostro GDP è generato in una linea che arriva fino alla linea gotica, quindi centro meridionale. E allora abbiamo provato a fare un esercizio in Conship, noi siamo affascinati dagli esercizi che riguardano la logistica perché pur essendo portuali come prima vocazione siamo logistici poi nell'animo e abbiamo applicato le curve isocostiche, applichiamo nei porti del nord range che ci permettono di avere una presenza fino al confine austriaco, l'abbiamo applicata al porto di Gioia Tauro e abbiamo visto che dal porto di Gioia Tauro, qualunque porto del sud, si potrebbe servire, usando la ferrovia con delle curve isocosti simili a quelle con cui da Spezia si raggiunge Padova, si potrebbe lambire l'interporto di Bologna. Quindi la domanda è perché no e qual è la scommessa vera? Perché non recuperare i volumi di transshipment che attualmente esistono come fattori di economia di scala per una distribuzione ottimale dai porti del sud di una gran parte del traffico italiano. Allora perché non recuperare gli investimenti già fatti nei porti del sud? Tengo a precisare che alcuni porti di transshipment, io ovviamente parlo di Gioia Tauro, l'ho detto fin dall'inizio, sono un portatore sano di interessi, i porti di Gioia Tauro è un porto infrastrutturato che è in grado di ospitare quattro ULCC si veste contemporaneamente, quindi 4-14 mila contemporaneamente, a dragaggio sufficiente, a una connessione ferroviaria che sarà implementata e migliorerà, quindi a tutti quei presupposti per potersi candidare non solo come hub di transshipment ma come hub di distribuzione verso il sud, con grande risparmio per quello che sono le economie nazionali che non si possono permettere altre opere di infrastrutturazione. Quindi la politica mondiale dello shipping costringerà sicuramente a coniugare una politica italiana che ha necessità di scelte, di scelte estremamente chiare, di scelte di sistema come è stato detto, di scelte nazionali che facciano recuperare investimenti già esistenti e diano la possibilità a questi di svolgere il loro compito in ambito nazionale con profitto per le imprese che le gestiscono mentre attualmente la situazione non è questa. Vi ringrazio.